Parliamo del Pescara in ritiro a Palena, questo pomeriggio il primo allenamento per Luigi Cuppone, l'attaccante classe 97, non ancora compiuto 25 anni, prelevato dal Cittadella in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi determinate condizioni, 15 gol nel prossimo campionato di Serie C oppure promozione in B del Delfino con il 60% delle presenze. State vedendo invece Davide Pellacani, difensore centrale perché il club Biancazzurro sta stringendo per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni di questo giocatore che è di proprietà della Virtus Verona, tra l'altro è un difensore rapido, aggressivo, fa anche gol 5 nell'ultima stagione. Nel filmato possiamo vedere alcune delle reti realizzate appunto da questo giocatore contro Feralpi Salò, Gianna, Erminio e Padova appunto nell'ultima stagione. Tre anni di militanza nella Virtus Verona con 91 presenze, c'è l'accordo col giocatore, bisogna ancora trovare la quadra col patron della Virtus Fresco ma la trattativa è in fase molto avanzata, sempre calda la pista Coccolo. Difensore centrale Mancino classe 98 della Juve, ha giocato con la Juve Under 23, 71 presenze lo scorso anno in B, tra Spall e Alessandria 12 presenze. Bene, Coccolo però deve ancora trovare l'intesa per la buona uscita con la Juventus. È stata fatta un'offerta a Pezzella e a Di Gennaro, al portiere è stato proposto un anno con opzione alla trentesima presenza. In sintesi, le priorità, portiere, difensore centrale e regista, ma il tempo non manca. In difesa oltre al portiere serviranno uno o due difensori centrali, un vice Saccani nel ruolo di terzino destro, potrebbe essere Valietti del Genoa, Scola Inter, ma solo se partirà Cancellotti, a cui sembra interessata la triestina, centrocampo con Mora Giabuà, che questa mattina ha svolto il primo allenamento, la scommessa Germinario classe 2002, lo scorso anno ha giocato nel Chisola, club piemontese ne ho promosso in Serie D, ma privo il centrocampo di un regista che lo scorso anno era Pompetti, passato al Sud Tirol, ne ho promosso in Serie B, tra l'altro Ferrari, di proprietà del Napoli, lo scorso anno 17 gol con la maglia del Pescara, è vicinissimo al Vicenza, che si è già assicurato le prestazioni di Alex Rolfini, lo scorso anno all'Ancona, è stato il capo cannoniere Rolfini del Giroire B, classe 96, 19 gol all'attivo, naturalmente si lavora in casa Pescara sulle cessioni di Frascatore, Rasi e come abbiamo ricordato, di Anzi e Cancellotti rischia lo stesso ingrosso che altri due anni di contratto.